La Allegria FS406 è una delle più piccole videocamere Canon mai viste. Design compatto e resistente, in pieno stile Allegria, con un display LCD touchscreen da 2,7 pollici estremamente comodo, che consente di visualizzare i filmati così come apparirebbero su un televisore 16 noni. La Canon Allegria FS406 abbina un sensore CCD da 800.000 pixel ed un obiettivo Canon con zoom ottico 41x, che permette di ottenere filmati fluidi e con una buona dose di dettagli. A questo si aggiunge lo stabilizzatore di immagine elettronico per ottenere riprese senza sfocature e rumore, e l'incredibile capacità di registrare le riprese in notturna. I filmati vengono salvati su memoria flash, a tal proposito troviamo uno slot SDXC compatibile con schede fino a 64 GB. Il funzionamento è davvero semplice, a questo viene in aiuto la grande quantità di funzioni messe a disposizione da Canon, anche la batteria sa il fatto suo, permette infatti di effettuare fino a 3,7 ore di ripresa con una singola ricarica. Canon Allegria FS406 è un'ottima videocamera, piena di funzioni e davvero ben costruita, ideale per chi vuole avere sempre con sé un facile strumento per registrare i propri ricordi.